Maratea, capitale dell'energia sostenibile, il prossimo 20 luglio presso l'hotel Santa Venere si terrà la seconda edizione dell'Energy Earth Awards con l'arrivo di ministri e scienziati internazionali. Per l'occasione a giungere nella cittadina lucana saranno infatti il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin, quello delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro della Salute Orazio Schillaci, il sottosegretario dei Trasporti Edoardo Rixi, l'amministratore del delegato di Ferrovia Antonio Donnarumma e il presidente della regione Basilicata Vito Bardi. L'occasione l'assegnazione dell'Energy Earth Awards che premia istituzioni, grandi aziende e manager che hanno favorito il percorso verso un'energia pulita e in equilibrio con l'ambiente. E' attesa per i vincitori e per il premio speciale al presidente Bill Clinton per l'azione svolta a protezione dell'ambiente con la Clinton Foundation. All'evento parteciperanno anche diverse università internazionali, tra cui il Meet di Boston. A presiedere l'associazione che organizza il premio, l'avvocato Francesco Marotta. E' il punto al quale ci proponevamo di arrivare, ha detto, fare di Maratea esempio unico di rispetto ambientale e della Basilicata, regione che fornisce il contributo energetico più significativo al paese, luogo in cui discutere del binomio energia-ambiente. Tra gli ospiti anche l'attore e regista Rocco Papaleo e il cantante Aiello.